ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovissimo video, io sono Dragonred e oggi siamo su minecraft, ragazzi come vedete abbiamo questo che è il dragonpix, dragon sword, queste sono ragazzi le prime, sono le prime, il primo piccone e la prima spada che ho usato in questo mondo, quindi diciamo che sono i primi picconi, è il primo piccone e la prima spada creata in questo mondo e poi ci sta questa mappa che sarebbe la mappa del mondo ma non funziona, non funziona bene, no raga c'è la dragon blue la mappa caspita, me l'ha preso, quindi ragazzi non ho più la mappa bellissimo, allora ho questo come vedete ragazzi come sempre così, è stato però ragazzi sto cercando un po' di renderlo più come la terza stagione, sto cercando di rendere questo minecraft, questa stagione minecraft come la stagione terza, però non so se succederà oppure no, quindi per adesso è solo una cosa che non si sa ancora, poi qui come vedete abbiamo ancora questo, poi ragazzi qui ci stanno le nostre cose più importanti, queste cose come vedete siamo veramente alla grande, ragazzi ho trovato una mappa, tre mappe però indicano quasi lo stesso punto, io non so se è così ma vabbè poi dragon blue mi ha dato queste mete dorate e niente ora ragazzi ci stiamo, poi la cosa è più facile, tu vai a minare, vai a pescare, vai a fare queste cose, poi io ho fatto questo pezzo che dove ho messo tutta la roba così almeno in ordine così almeno so che qui ci sta il carbone, qui ci sta questo, quest'altro e così via, niente ragazzi ora allora oggi andremo a trovare una cosa strana ragazzi, andremo a trovare più caldo prima di tutto andiamo a fare una cosa, a vedere tutte le costruzioni che ho fatto ragazzi perché io e dragon blue in questi tempi, in cui non ho fatti i video, cioè li ho fatti ma ovviamente li ho fatti senza voce ma li ho fatti, però non li ho fatti tutti e quindi ora vi faccio vedere un po' tutto quello che abbiamo fatto, quello che diciamo abbiamo fatto senza dirlo a voi, no quelle cose proprio non le abbiamo fatto vedere ma abbiamo fatto noi, per esempio ora vi faccio vedere quella cosa ragazzi è molto diversa perché è cambiata, cioè le cose sono cambiate veramente tante, le cose sono cambiate perché abbiamo fatto tante cose nuove, come vedete c'è una casa, questa è la casa di dragon blue, questo è il portale che un giorno, no un giorno ma tra, poi ci sarà un ascensore, poi da qualche parte lo piazzeremo a questo portale perché qui non va più bene e quindi questa è la casa di dragon blue che è meglio chiuderla perché sennò vengono i mob, infatti lui non ha messo questa cosa che io la metto sempre, la pressure plate, sennò raga la porta si apre e resta aperta, io non voglio guardare, eccola qui la mia mappa, caspita raga se l'ha presa lui, vabbè gliela lascio sti cavoli, no perché raga questa qua è la mia mappa, la conosco è la mia mappa, caspita si è presa la mia mappa, hai capito, beh si è presa la mia mappa, vabbè che vi posso dire, no raga veramente lo sapevo, si era presa la mia mappa, poi lui raga ha incantesimi, vabbè, tanti incantesimi, abbiamo trovato finalmente anche le carote ragazzi così almeno la possiamo avere tante carote, beh ora andiamo a fare una cosa molto più, ovviamente ragazzi questo è quello che abbiamo un po' diciamo fatto, ma non è niente di che per adesso, ma vabbè, quella è una cosa che ora vi faccio vedere, anche questo e anche quell'altro, allora andiamo sotto, intanto ragazzi vi voglio dire che questo è l'episodio 11, quindi diciamo che è un episodio in cui è molto bene perché ovviamente è lungo, allora, allora ragazzi, il distributore dei polli, allora, pollo cotto no, come vedete, infatti funziona ragazzi, è molto buono perché, infatti come vedete, pollo cotto, cioè ne dà 33, allora vi dico il meccanismo, allora qui sopra ci stanno i polli, quelli là, diciamo adulti, vengono, vabbè stanno qui, vabbè, poi li mettiamo delle uova, no, cerca di dei polli, poi li mettiamo qua i polli, vabbè, i polli, li facciamo crescere, poi che sono cresciuti fanno delle uova, cadono, le uova poi li spala, diciamo fuori, si distruggono, se siamo fortunati, allora nasce un pollo, se no niente, poi se questi polli come vedete sono piccoli, se crescono diventano grandi, diventano grandi che diventano quasi un blocco e quindi, come vedete, c'è la lava, li brucia e quindi li ammazza, però li cuota, quindi diciamo che abbiamo questi piumi e anche queste pollo cotto, no, mi ha preso di pezzi, mi ha preso di pezzi, vabbè, questi poi lasciamo qui, allora, ragazzi, questo è un'altra cosa che lui ha fatto, poi questo l'ho fatto io e ci ho fatto proprio un video, ragazzi, ho cambiato, non ho voluto mettere la lava perché la lava è molto, ma molto pericolosa, sarà per il fatto del, che se io rompessi un pezzo di vetro, uscirebbe della lava e rovinerebbe tutto questo, e così anche qui sopra, e quindi ho detto, vabbè, allora teniamo, perché poi se viene un fulmine, non so che succederebbe, perché ragazzi c'è parla dei fulmini, cioè sta cosa che i fulmini distruggono, mi rende veramente uno, vabbè, qui c'è l'ascensore che ancora non ho, ma che cacchio, è uno scherzo, mi scusi, lei è entrato in casa nostra? Cioè nell'ascensore? Cioè ragazzi sono entrato nell'ascensore, cioè nel, minchia, cioè ragazzi sono veramente dei, poi ragazzi abbiamo trovato dei slime, non lo abbiamo capito ancora bene come abbiamo trovato, ma forse ho capito da dove esco, cioè da dove entrano, entrano da questi pezzi, no, ma sono tutti così, allora ragazzi, a quanto pare abbiamo trovato un pezzo molto non buono, perché questa parte qui a quanto pare, sembra proprio quello che sembra, no ragazzi, qui non sembra proprio scavare, cioè lui l'ha già gestito, ma non l'ha fatto bene, vabbè, da sopra l'ha fatto, vabbè, ora me lo faccio fare, che è successo? Vabbè, allora qui c'è la nostra casa, qui c'è la nostra farm di pesca, l'ho messa avanti perché così io non ho difficoltà, cioè esco, vedo subito la farm e comincio a pescare, come vedete qui c'è la farm di pesca, abbiamo trovato anche delle pesche, come vedete, fortuna del mare, uno, esca uno, quindi diciamo che va bene, abbiamo pescato per adesso questo, niente ragazzi, la costruzione, vabbè, credo che lo sappiate perché è quella che faccio quasi in tutte le serie, cioè in tutte le serie di Minecraft, infatti ho fatto un video tutorial nel quale vi mostro come fare questa farm, quindi se vi serve sapere come si fa, eccolo un tutorial, andatelo a vedere, sulla playlist di Minecraft, lo troverete di certo, poi c'è ragazzi, abbiamo questo che sarebbe la casa mia, la mia casa che io non mi trasferirò, per adesso, credo mai, perché non mi va, poi lui ha fatto sta cosa, vabbè, ha fatto un po' di cose, basta, niente, di che, qui c'è un acquario, qui c'è, vabbè, questo, poi questo è un distributore, vabbè, questo è tutt'altro, poi c'è questo, ecco, qui e qui, basta, ragazzi, è finita, ragazzi, questa era casa mia, infatti, non vi voglio mostrare tanto perché non ha senso, ma vabbè, non so manco perché l'ho fatto, perché ragazzi, la direzione della casa l'ho fatto in modo sbagliato, perché quella parte doveva essere girato verso di qua, io credevo che era questo davanti, cioè io credo che fosse questo davanti, ma non era questo, ma era quell'altro, quindi questo, questo lato qui dovrebbe essere girato da quest'altra parte, allora ragazzi, andiamo a dormire perché, se no qui ci vengono i mob e ci uccidono tutti, e ci distruggono tutto, poi la farm, poi ragazzi, vabbè, la farm di pesca, qui ci stanno, diciamo, l'ha creato, non l'ho capito ancora perché, ma questo è per il legno, cioè lui può mettere un tipo di legno e il legno che mette, cioè qui c'è il legno blu, no, questo va di qua, di qua, cioè tutti i legni sono stati messi in ordine così, e ogni volta che metti in questa cassa un legno, non so, a caso, quello automaticamente si trasferisce a proposito, cioè, vabbè, nel suo posto, vabbè ragazzi, ora, poi abbiamo questo che sarebbe la cosa, no, cioè io questo qua, non lo so se ve lo faccio vedere, ma, vabbè, ora, ve lo faccio vedere, questo è la farm di animali, che, fabbricata sempre da dragon blu, ma un po' migliorata da me, e niente, ora, è così, spero che cambi, cioè io che non mi no perché non mi dispiace, cioè, mi va bene, non mi importa, cioè, se ci stanno problemi, perché per me non ci stanno i problemi, petra con blu, ci stanno dei problemi, quindi vorrebbe un po' cambiarlo, poi, ditemi nei commenti, ragazzi, se non vi piacciono queste, diciamo, case di foglie, no, per gli animali, perché per me va bene. E poi, ragazzi, ovviamente abbiamo questa parte chiamata, vabbè, qui ci faccio il legno, no, il legno di, di cose, come si chiama, di quercia, così almeno abbiamo il legno di quercia, come vedete ce ne sta abbastanza tanta, quindi diciamo che non ci manca, e niente, ora, andiamo dall'altra parte, ragazzi, perché ho fatto una costruzione, l'ho finito ieri, e voglio vedere se, no, io li ho i creeper, vabbè, io li ho i, però ho una testa di creeper lì, allora, come vedete qui ci stanno le, diciamo, le, diciamo, gli ortaggi, no, l'ortaggio, e qui ci stanno le carote, poi ci stanno questi qua che sono, poi abbiamo i, le barbabietole, e così via, quindi diciamo che le cose ce le abbiamo, non è che non ce le abbiamo, ce le abbiamo, ragazzi, diciamo che va bene, cioè, tutto questo va bene perché abbiamo tutto, mangio questo che così almeno, almeno mi serve in realtà, quindi, poi carote, vabbè, poi lì ci sta tutto questo, come vedete, guardate cosa ho avuto, proprio questa quantità così ora, aspetta che vado sul coso, non c'è una crafting, perché mi servirebbe una crafting table, ragazzi, una crafting table, non la trovo, credo di no, credo che qui non l'ho fatto, ragazzi, quindi, qui sia inutile, ma va bene, perché ora noi andremo ad vedere lo spawn di mostri, ragazzi, spawn di mostri, ragazzi, voglio prendermi questo cavallo perché mi servirà, ho la sella, ho tutto, quindi, ragazzi, ecco a voi, il nuovo, c'era, non lo faccio da tanto, ma l'ho fatto, lo spawn di zombie, vabbè, di mob, infatti funziona, ragazzi, beh, ci mettono un po' a venire, ma vabbè, qui ci sta, ci sta, ragazzi, non ho capito bene, ma abbiamo trovato un disco musicale che, ora, io cercherei di portarlo via, ma non so il perché lo vorrei lasciare, poi abbiamo anche altra roba, quindi diciamo che va bene, allora, risolviamo su, forse stavamo bruciando all'inizio, vabbè, e niente, ragazzi, questo era tutto, quindi io spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, ci vediamo al prossimo e spero che nel prossimo video facciamo tante cose e niente, ciao ciao!